Uomini e donne, quando verranno registrate scelte di Federico e Lavinia? Anticipazioni Per quel che riguarda la tronista Lavinia Mauro va detto che il trono della giovane non ha goduto di una grande serenità in quanto la tronista è stata più volte bersaglio del web per via dei suoi comportamenti collezionando un'inaspettata cerche di haters. Tuttavia, nell'ultimo periodo a far soffrire maggiormente Lavinia sono stati i comportamenti dei suoi due corteggiatori. Alessio Cordino ed Alessio Campoli, che sembrano non procedere mai per il verso giusto. Dando anzi aditoliti ed incomprensioni. Stando alle anticipazioni di Uomini e Donne. La tronista Lavinia non ha ancora deciso con quale ragazzo approfondire la conoscenza lontano dalle telecamere. Analogo discorso per Federico Nicotera. Tornando però a Lavinia, non è, dunque, Escluso che il suo percorso possa concludersi con nulla di fatto, terminando senza aver effettato alcuna scelta. Presumibilmente, la messa in onda con la scelta di Lavinia dovrebbe andare in onda verso la fine di febbraio. In attesa del cruciale, fatidico momento della scelta, cosa vedremo nella puntata di oggi? Molto ingarbugliata la situazione tra la tronista Lavinia ed i suoi corteggiatori. Infatti, durante le prossime puntate della trasmissione, la ragazza avrà un forte crollo emotivo e minaccerà di lasciare il trono. Le ragioni di una tale decisione sono da ricercarsi, ancora una volta, nelle liti con i due corteggiatori. Specialmente con Alessio Cordino il quale continua ad essere vago nel suo interesse. Le cose non sembrano, dunque, essere come si suol dire rose e fiori e di telespettatori temono che la ragazza possa trovarsi davanti ad un pesante rifiuto. Grazie a tutti.